ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale aia che male benvenuti sul mio canale oggi è martedì quindi come ogni martedì è di nostra consuetudine guardare un video delle make up angels quindi oggi io, Fabiana e Elisabetta vi proponiamo un make up per quanto riguarda 5 prodotti nel senso dobbiamo fare una full face con 5 prodotti questo video io l'ho visto tramite il canale di Martinella Makeup ve lo scriverò qui e giù nell'info box vi metterò il link proprio di questo video e quindi abbiamo deciso di fare proprio una full face con 5 prodotti la proposta che ho fatto è piaciuta sia a Elisabetta sia a Fabiana e quindi faremo tutti e tre questo video allora iniziamo accenderò un pochettino d'aria facendola girare così vediamo c'è ancora un pochettino di caldo però qua dentro con tutte le porte chiuse si sente molto di più quindi un po' di aria ci vuole allora dovremmo fare una full face con 5 prodotti io inizierò con mettere io non ho messo niente sul viso soltanto la mia crema ma quella è normale che la debbo mettere e quindi adesso metterò il fondotinta queste parti ve le velogizzo perché sarà più facile fare tutto il resto del make up allora shakeriamo bene bene mettiamo il fondotinta fondotinta appena messo utilizzerò questa spugna e procediamo ovviamente visto che non possiamo utilizzare tanti prodotti lo utilizzerò anche come primer e correttore direttamente quello che c'è nella spugnetta e lo vado a utilizzare direttamente nell'occhio quindi far sì che mettiamo sia il primer occhi sia il correttore pulita tutta mettiamo anche il culo allora di solito io non ho diciamo una problematica che riesco anche a non mettere diciamo la cipria perché però lo sento un pochettino umido specialmente questo qui il face and body è un pochettino umido e io vorrei mettere tipo qualcosa al di sopra quindi avevo deciso di mettere la cipria quindi questa la metterò proprio perché farò un make up che di solito faccio quando non devo fare niente di particolare quindi non devo uscire non devo andare da nessuna parte nel senso che vado da mia mamma a prendere il caffè e tutto non sto non devo andare tipo che so ai centri commerciali o o da altre parti ovviamente ciprio anche l'occhio anche l'occhio vuole la sua parte tolgo un po' di eccesso eccesso poi terzo prodotto metterò qualcosa negli occhi farò direttamente con un blush quindi utilizzeremo uno di questi credo che utilizzerò desert rose questo lo utilizzerò sia per quanto riguarda su tutto l'occhio sia per quanto riguarda il blush quindi mettiamo il blush quindi prendo il prodotto scuoto sorridiamo adesso lo sfumo con un pennello più grande sempre avrei potuto barare avrei potuto prendere una palettina e fare un tutto però di norma è con 5 prodotti quindi 5 prodotti in forma singola diciamo perché sennò avrei preso la la come si chiama la contour palette di smashbox dove c'era cipria terra illuminante e tutto quindi non lo so cosa combineranno quelle due poi con un pennello utilizzerò utilizzerò proprio il blush che abbiamo appena utilizzato sugli occhi sul viso lo utilizzerò sugli occhi proprio facendo una sfumatura e portandolo anche proprio su tutto l'occhio se una persona ha fretta oppure si porta pochissimi prodotti deve stare poco diciamo pochi giorni in giro già sono dei prodotti che potete utilizzare e con pochi prodotti già farete una full face diciamo non di quelle particolari ma per quello che può servire ottima poi vado a mettere come quarto prodotto il mascara questo non deve mancare mai allora già guardate la differenza con un occhio con il mascara e l'altro senza cioè mascara senza già il make up sembra molto diverso e poi come ultimo prodotto sinceramente metterei un gloss sulle labbra perché se io devo uscire devo andare da qualche parte non metto rossetti non perdo tempo in queste cose ma utilizzo un gloss e questo è il mio make up la mia proposta per quanto riguarda il make up con 5 prodotti allora ricapitoliamo e facciamo un resoconto dei prodotti che abbiamo utilizzato come primo prodotto ho utilizzato il face and body della mac quindi un fondotinta e l'ho utilizzato sia come fondotinta che come correttore sotto gli occhi che come primer per gli occhi quindi ho utilizzato un prodotto e ho fatto tre cose poi ho utilizzato la cipria perché ho bisogno di opacizzare per adesso il viso perché essendo estate un pochettino la mia pelle rilascia del sebo e quindi ho bisogno di incipriare il viso quindi ho incipriato il viso quindi secondo prodotto terzo prodotto ho utilizzato un blush della MAC ho utilizzato questo che è Desert Rose questo qui e l'ho utilizzato sia come blush che come ombretto sugli occhi poi come quarto prodotto ho utilizzato il mascara questo qui di Astra che per me è il migliore in questo periodo e sinceramente mi piace tantissimo e poi per finire ho utilizzato come quinto prodotto un lip gloss sulle labbra non metto illuminante perché già diciamo la mia pelle si illumina già da sola e quindi ho messo questo come quinto prodotto spero ovviamente che questo video vi piaccia a me è piaciuto tantissimo è un video molto molto veloce quindi se volete riproporre questa challenge mi farebbe molto piacere se mi volete taggare così la vengo a vedere e vengo a prendere spunto anche da voi allora per quanto riguarda questo video è tutto io ringrazio Martinella Makeup perché il video lo ripeto l'ho visto da lei quindi è giusto che venga nominata sono molto ma molto curiosa di sapere le altre due cosa hanno combinato con quali prodotti si sono truccate e specialmente quali prodotti hanno utilizzato e ditemi avranno o non avranno barato andiamo subito a vedere il loro video quindi andiamo subito sia da Fabiana che da Elisabetta e ovviamente mettete sempre dei like e commentate perché a noi tre ci fa tanto tanto piacere sia rispondere ai messaggi sia il fatto del like perché ci fate capire che il nostro video vi piace e quindi su con i like dai allora per quanto riguarda questo video è tutto io vi ringrazio tantissimo vi mando un grosissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao